Musica Ciao bella a tutti ragazzi sono Italo Oggi siamo qua in un nuovissimo video ragazzi E siamo qua di ritorno dopo una settimana ragazzi Siamo di ritorno con il nostro carissimo benvoluto VV2 ragazzi Allora che dirvi E' la terza volta che provo a fare questo video ragazzi Perciò io avevo già fatto tutto in live Avevo già fatto tutto Ma purtroppo ma purtroppo ragazzi Questi cazzo di programmi di merda Che ci sono sul cazzo di mio computer Non mi stanno a funzionare ragazzi Quindi devo registrare con Sony Vegas Porca vacca Ed è la prima volta ragazzi Quindi spero davvero che esca tutto bene Allora niente ragazzi Oggi sono qua per fare un video veloce veloce Altrimenti poi per caricarlo ci mette due anni E non riesco sinceramente a giocare nemmeno oggi Comunque come vedete Sensibilità 14 Finalmente siamo tornati Sensibilità 14 Uhuuu Comunque allora Che fare ragazzi Io voglio davvero farvi vedere tutto Però Eh sì ovviamente non in live Cioè non è il Non so perché Non so perché sono da solo Nella lobby Porca troia Cioè social Nella lobby Allora Nella lobby Amici Recente Party QG Cioè sono da solo Io davvero non capisco il perché Ma comunque Comunque Allora vi farò vedere Praticamente Tutto quello che c'è Nel Nel QG Insomma come vedete ragazzi Da qui è già enorme no È già enorme Poi più avanti vi farò vedere Allora Furiere Furiere qua C'avete i contratti ragazzi Come vedete io c'ho già TV3 E niente Questi qua praticamente Vi danno quei due martelletti In alto a destra Come vedete 650 Io ne ho E serve per Sbloccare queste cosette qua Allora tipo qua Quando arrivate 8900 C'avete quello Qua c'avete carica Qua c'avete questo Che sinceramente ragazzi Non me ne hai fatto un cazzo Io voglio Ecco Questo già sarebbe bello Da sbloccare Poi Niente qua Vedete solo Solo queste cose qua Insomma Basta Basta Solo un video veloce Veloce ragazzi Introduttivo Allora Corrispondenza Pagamento Ragazzi qua praticamente C'avete tipo una ricompensa Ogni tot ore Che si Praticamente io ho già aperto Lanci di rifornimento Avevo già lanciato Ma porca puttana Ragazzi purtroppo il video è andato a puttane È andato proprio a puttane Messaggio No ok Maggiore forward Qua abbiamo altri contratti ragazzi Da completare Così almeno ci danno altre ricompense Qua abbiamo 25 esperienze Lancio di rifornimenti Allora qua Punteggio social 25 Lancio di rifornimento Vinci una partita Deathmatch Cattura 10 punti In dominio Vinci una partita Nell'arena 1 vs 1 Ecco Prima l'avevo fatto Ma avevo subito Due sconfitte Perché le armi di questo gioco Fanno un po' schifo No dai A parte scherzi E Prestigio di visione Questo non l'ho mai visto Fanteria No Qua si fa solo Prestigio di visione Niente Qua Avevo visto ragazzi Che questo qua Si è buon Per parlare con Quel Pezzo di merda lì Generale Però purtroppo Non sono nel prestigio Io perciò Non posso fare niente Qua non c'è un cazzo Qua si può fare L'1 vs 1 Ragazzi Io entro nella coda Non si sa mai Magari qualcuno Si unisca alla mia partita Eh Maestro d'armi Armi prestigio Qua ovviamente Potete fare tipo Le armi prestigio Potete prestigiarle armi Come sapete Già come subito 3 alla fine Carica verniciatura Carica verniciatura Vedi Verniciatura E E scusate se vi spiego Così tanto ragazzi Ma è che proprio Sono davvero Stanco di Okan Che è la terza volta Che registro Sto cazzo di video Qua potete provare I vecchi giochi Dell'Activision Ragazzi Sono davvero divertenti Magari anche Non so benissimo Se si può giocare Contro un Contro un amico Ragazzi Ma sono davvero Divertentissimi Soprattutto Cioè Per divertirsi Soprattutto Ah ecco Ieri sera Praticamente Stavo giocando Uno versus uno Contro i miei amici Amity E Marco Ragazzi Che ci siamo ritrovati A fare le partite Le prime partite Insieme Insomma Ci siamo davvero divertiti E niente Siamo stati più tempo A fare uno versus uno Che nelle partite normali Comunque Vedete C'è quanto cavolo È grande Come cosa C'è enorme Enorme Allora Emblemi Prima in live Mi ero creato Questo cazzo D'emblema qua Ragazzi Si fa veramente schifo Infatti L'avevo preso Come lo scherzo Ma noi ci aggiungiamo Qualcosa No No Allora Niente Non so come farlo Niente ragazzi Io davvero Io spero Cioè Alla fine È che Dovete dirmi voi Come volete Cioè Io avevo già fatto tutto Però purtroppo Sono stato così sfigato Da non saper neanche usare Qualche cazzo di roboli Mamma mia Ragazzi Veramente Qua serie di punti Ragazzi Qua potete Provare tutte le serie Di punti Che ci sono Sì Cioè È davvero bello Perché se non avete mai provato Delle serie di punti Ragazzi Qua potete scoprire Anche quanto cavolo Massacrano E quindi Niente Capire anche Più o meno voi Come iniziare a giocare Con quali serie di punti Quali serie di punti Siano le migliori Per un certo tipo di gioco Insomma Per come vi trovate voi Meglio Quindi qua Avete già la possibilità Di provare Già molto prima Insomma Di riuscire a prendere La ricompensa E di Insomma Di sapere già Come funziona Qua per esempio Proveremo questo Aereo qua Che io Non l'ho mai provato Vi dico la verità Questa è la prima volta Posso dire che è abbastanza Devastante Una bella bomba Allora Diciamo qua Mamma mia Bam Solo una doppia Allora Questo avevo già provato Ragazzi Perciò Non c'ho proprio voglia Questo volevo provare Guardate Cioè L'ho già provato Ma è che voglio solo Che vediate Che bestia Che bestia Da dove cavolo arriva Eccolo qua Mamma mia Guardate Guardate Cioè È figo o no? Va bene che ha ucciso solo uno Però Però Va bene Dai Questo anche È stupendo Questo è stupendo Ah no Affanculo Non voglio aspettare Boh Posso? Posso? Dai eh E vabbè Deve passare un altro Mamma mia ragazzi Cioè Vedete È un devasto È un devasto Questo mi cade proprio addosso Oh Mamma mia Mamma mia Ok Adesso possiamo Faccio così Guardate Che figata E mo Crea Tipo una musichetta Ragazzi Sentite Sentite eh Sentite Appena si avvicinano Sì Boh Dai Muoviti Niente ragazzi Non farò nemmeno un tempo Cazzo Boh Abbandoniamo sta roba Abbandona Ok Abbandona Abbandona Basta Basta E niente Adesso volevo farvi vedere Anche dove si trovano Gli zombie ragazzi Per se volete anche delle live Io faccio delle live sui zombie Ragazzi che buono La connessione magari non me lo permette Ma ovviamente giocando da solo Possiamo per esempio scoprire anche Le cose Per chi non ha ancora il gioco ragazzi Per chi non l'ha ancora preso Magari per chi deve ancora arrivare Magari l'avete preso su Amazon oppure eBay E quindi sì Io ci sono qua ragazzi Io provo sempre a portarvi questi video qua Tanto per farvi vedere un po' come funzionano anche le cose Prima così almeno quando arrivate sul momento Sapete già più o meno come fare Siamo già a 10 minuti di registrazione Non va bene Non va assolutamente bene E ovviamente taglierò un piccolo pezzettino Ma io non capisco una cosa Perché io devo essere da solo nella lobby Perché devo essere da solo nella lobby cazzo Allora Qua questo tipo qua non so che cazzo fa lì Ah ecco andiamo a vedere dove sono gli zombie ragazzi Basta che scendete per di qua Andate qua sotto Poi ovviamente potete entrarci anche dal menu principale Prima avevo visto Cioè Prima Ma boh Tanto non ci torniamo più nel QG Perché questa è l'ultima cosa che vi faccio vedere Prima avevamo visto anche la piccola introduzione Che aveva fatto vedere per gli zombie ragazzi Ma purtroppo Purtroppo Niente Io sono così sfigato Cioè così sfigato No così deficiente E quindi Sono Devo per forza fare così Devo per forza fare questi video così E quindi non so davvero Cioè mi da fastidio ragazzi Mi da fastidio Comunque Qua vedete Qua vedete come Entrare direttamente negli zombie Se poi magari siete con gli amici Andate sul QG Ragazzi Basta che entrate là sotto Adesso vi ho fatto vedere più o meno Come si faceva Spero veramente che vi ricordate Tanto alla fine non è molto difficile Poi Con Poi col tempo ragazzi Basta che vi mettete voi a Cercare Tutto quanto Tanto Di sicuramente Questo video non serve un cazzo Perché tanto voi di sicuramente Quando troverete il gioco Si Saprete più o meno già Come Com'è che funziona Già un po' Il QG Però Insomma Voi stessi avrete il tempo Di Di vedere come funziona E Si Vi metterete a A vedere Voi da soli Voi stessi Niente ragazzi Io davvero spero che vi sia piaciuto il video Io Mi scuso tanto davvero Per avervi portato così Così Ma avevo fatto tutto in live Ragazzi Un video che durava 20 minuti Avevo fatto anche 2 vs 1 2 1 vs 1 E Niente Avevo persi tutti e due Ma almeno Abbiamo fatto in live Dato che Dato che Si era tutto in live Ragazzi Dovevo per forza farlo Quindi Abbiamo provato Abbiamo provato tutto quanto Tutto quanto Per la prima volta Ragazzi Ma purtroppo Purtroppo La testa di cazzo di Italo Cuba Non è capace a fare una cazzo di partita Cioè Non è capace a fare una cazzo di roba Comunque Niente ragazzi Io spero che vi sia piaciuto il video Ditemi voi cos'è che volete Nel prossimo Ovviamente Vi porterò Partite con il cecchino Un casino Perché finalmente Siamo tornati alla sensibilità 14 Quindi Riusciamo a fare come cazzo Ci pare piace a noi Niente ragazzi Un bel like Un bel commento Noi ci vediamo al prossimo video E Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti